La mia esperienza è stata molto produttiva dal punto di vista umano e anche professionale. Professionale semplicemente perché è una cosa meravigliosa riuscire a dare qualcosa al tuo prossimo, a fare volontariato grazie alla tua professione, cioè utilizzando la tua professionalità, ciò che sai fare e cerchi di dare il meglio in ciò che sai far meglio e questo è indubbio. Ma anche dal punto di vista umano perché questa esperienza mi ha insegnato a vedere i miei pazienti come il mio prossimo, a non considerarli come clienti mediante il quale arricchirsi fondamentalmente. Diciamo che è stata un'esperienza che ha funzionato da antidoto contro vanità, contro avidità e quindi questo è il motivo per cui sono sempre tornato. E poi mi ha fatto scoprire il dono della gratuità. I pazienti vengono, ringraziano, benedicono, non pagano e se ne vanno. Direi che per me andare a ciare è come andare in spa, mi rilassa. I nostri obiettivi futuri sono quelli di formare il personale locale affinché possa camminare con le sue gambe e, perché no, convincere tanti altri colleghi a venire a fare un'esperienza di questo tipo, che è particolarmente arricchente dal punto di vista umano, psicologico e spirituale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.